Onorevole Di Maio, ha vinto la sua linea, il movimento parla di cambiamento, ma anche voi siete cambiati, avete fatto l'accordo con il centrodestra per le presidenze? Noi abbiamo vinto questa sfida e siamo arrivati alla presidenza della Camera proprio perché abbiamo mantenuto integrità e coerenza. In questi giorni abbiamo ottenuto fede ai nostri valori e in tutte le trattative che ci sono state abbiamo informato i cittadini in maniera trasparente di ogni passaggio. Come sarà una presidenza 5 stelle? Finalmente sarà una presidenza di cambiamento, ma non sarà un cambiamento per le forze politiche o per i politici, sarà un cambiamento finalmente per i cittadini italiani. Questo palazzo ha rappresentato la casta per decenni, adesso avremo un presidente che rinuncia al doppio stipendio, potremo mettere mano ai vitalizi, coinvolgeremo i cittadini nelle scelte che li riguardano, finalmente non ci saranno più ghigliottine a mezzanotte che passano i soldi alle banche, potremo iniziare a tagliare un po' di quel miliardo di euro che costa questo palazzo. L'accordo di oggi può essere il punto di partenza per costruire una maggioranza di governo con il centrodestra o guardate anche a un possibile dialogo col PD? Come ho sempre detto questo non era un accordo che riguardava il governo, ma sicuramente noi oggi abbiamo dimostrato con i fatti quello che avevamo sempre detto, che siamo aperti a tutti, che siamo compatti e affidabili nelle scelte che diciamo di prendere e adesso dico alle forze politiche fatevi avanti se volete fare cose buone per l'Italia. Insomma dove troverà i voti che mancano per la maggioranza? Io credo che finalmente potremo prendere i voti intorno ai temi, questo è un paese che aspetta da 30 anni il taglio delle tasse alle imprese, il superamento della legge Fornero, gli aiuti alle famiglie che fanno figli, uno strumento che aiuti a trovare lavoro ai giovani che perdono il lavoro. Se nasce il governo di chi ha vinto le elezioni chi sarà a guidarlo, lei o la Lega? Io spero che dopo anni di governi che non aveva votato nessuno, i partiti, le forze politiche possano prendere atto del risultato del 4 marzo. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto 11 milioni di voti, oltre il 32%, con un candidato premier e spero che si possa tener conto di questo risultato.